su questo punto. C'è una procura che è la procura di Catania che ha aperto un'indagine ancora senza reati su alcune possibili navi, magari battenti bandiera del Belise, dell'isola Marshall, collegate a fantomatico ONG che magari vanno a prendere i migranti vicino alle coste libiche. Per l'amor di Dio tutti devono essere salvati in mare, però permettete che si possano avere dei dubbi su alcune imbarcazioni in Mediterraneo, dato che i flussi migratori sono un business e l'immigrazione grandestina è una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti politici, dato che è tutto un business in questo Paese.